Namaskara, Msa Guru. Vedo che l'idea di competizione è talmente radicata nelle nostre menti, non solo a livello scolastico, ma anche a livello post-universitario o in qualsiasi aspetto delle nostre vite, così che crea molto stress inutile. Che cosa si può fare veramente a riguardo? La competizione è una cosa buona. Se sei incompetente e sei in una competizione, ti sentirai stressata. Quindi, se vuoi stare in una situazione competitiva, il fatto è che devi lavorare sulla tua competenza. In questo momento il problema è stai ottimizzando il tuo desiderio, non stai ottimizzando la tua competenza. Questo è ciò che deve accadere, che dobbiamo insegnare ai bambini a ottimizzare la propria competenza, non il proprio desiderio. La chiamiamo ambizione, lo chiamiamo orientamento agli obiettivi. Ambizione cosa significa? Hai ottimizzato il tuo desiderio, soffrirai puntualmente. Se ottimizzi la tua competenza, vedrai. Ovunque vai, fai meglio di quanto le persone si aspettano che tu faccia. Quindi naturalmente le cose andranno bene per te. La competizione non è una cosa negativa. La mancanza di competenza è la cosa negativa. Dobbiamo comprendere questo. In questo paese è molto importante, perché pensiamo ancora che la nostra istruzione venga preparata in cielo. Perché le persone mi dicono che i templi sono affollati subito prima degli esami. Proprio il posto sbagliato in cui essere. Proprio il posto sbagliato in cui essere. Quando il tuo esame si avvicina. Che tu stia nel tempio è proprio il posto sbagliato in cui essere. In vacanza stavi seduto nel tempio. Fantastico! Quindi, invece della competenza, abbiamo grandi desideri. Se ti focalizzi abbastanza sul miglioramento della tua competenza, vedrai. C'è una gioia tale nell'infrangere delle limitazioni ogni giorno e diventare qualcosa di migliore. Non ti importa un accidente di come qualcun altro se la cava. Sì. Se ogni giorno stai infrangendo delle limitazioni, quando stavo parlando alla, penso alla nostra scuola residenziale, dicevo loro, una classe piena di bambini dovrebbe fare il rumore delle uova che si schiudono. Sai, una volta facevo, facevo sericoltura, sai? Allevamento di bacchi da seta. Ed ero sbalordito. Ero così sbalordito che a volte non li portavo al mercato. Perché questi, se solo lasci il bozzolo abbastanza a lungo, se non lo porti al mercato, dovresti vedere come si apre. Farà un rumore così. Lentamente lo stanno aprendo. Quando un milione di loro stanno cercando di aprirlo, entri in questa stanza di continuo. E questo è il suono che dovrebbe avere una scuola, che in ogni momento stanno infrangendo le proprie limitazioni. se stai infrangendo le limitazioni di chi sei, se la tua competenza lavori costantemente per espanderla, non hai neanche il tempo di guardare come se la cava qualcun altro. Perché questa è una cosa talmente grande che sta accadendo dentro di te. Quindi, per favore, focalizzati sulla tua competenza. Della competizione non ti preoccupare. se sei bravo starei in cima, altrimenti starei da qualche parte. Va bene. Grazie. 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 Grazie.